E' a spiegare il Morote Seonage, stessa guardia, ok? Right or right? Destro o destro? Vamo ad applicare il Morote Seonage oggi, stessa guardia, stessa guardia, stessa guardia, stessa guardia, destra o stessa guardia, ok? La cosa importante, la cosa molto importante è questa parte qui, ok? Sempre controllare. La cosa importante è che la manda, sempre attraverso la zona, destra o meno. Ok, molte, molte persone, stai in un'attività, il bambino è molto basso, in modo che è libero, però non è buon controllo. La mano deve stare qui. La mano deve stare qui. L'attività del pezzo. Quando appoggio, ruoto, mi appoggio con tutto il palmo della mano sul pezzo, per controllare il suo corpo, il suo corpo. Quando la puoi la mano, puoi la mano, appoggio con la mano, appoggio con la mano, appoggio con tutto il palmo della parte, direttamente con questa parte non del pezzo. La parte fondamentale è partire sempre di questa parte qui, tutte le tecniche. Molte volte vedo che tu ci commi da questa parte qui, ruoto, lascio questo perno qui. Questa parte qui è sempre estremizzare la parte dell'apertura. Questa parte qui, sempre estremizzare la parte dell'apertura. Questa parte qui è importante, grazie all'apertura. Adesso andiamo a vedere una che cerco io di andare sotto, ok? Non mi segue. L'opposizione quando io vado in avanti, quando mi controllo nel combattimento sono io in avanti che vado a cercarlo. L'obiettivo è dalla pressione su questa parte qui, in modo che questo è molto libero. La pressione la pone in la mano, il peso la pone in la mano, solo va a tenerela libera. Abro, controllo, abro, fin. Abro, controllo, espuma. È molto sintetica, no? È molto sintetica. Tiene che sentire questo peso, tiene che sentirelo. La mano derecha, attivato, come continuamente, muove e necessita l'impaluzione. Non muove, non muove. Non è corretto. Hai che sentire il resto della attività attiva di su mano. Ok? Quando vado in avanti sono io che lo cerco dentro. Molto morbido. Questa è quella forte che controlla, questo è libero. Questo non è importante. L'importante è per bloccare. L'importante è fare la parte importante. Devo uscire sempre con il culo, sedere dietro. Ok? L'importante fare il controllo entra, ripetere il culo dentro, impiegarsi la posizione su pierna e essere andata, è veramente importante. Non qui. Qui non c'è il controllo. L'obiettivo è andare sempre dentro, perché in competizione è molto, molto difficile. Quindi l'obiettivo mio è sfondare il muro, abbattere il muro. Dice che, che è sempre il controllo è sempre rompere il muro che sta dentro, è sempre dentro. Quando vado dentro devo prepararmi. questo, questo, come si è stato dentro. Quando sta dentro, su pierna si trova in questa posizione. In questa posizione, la prima è stata con il cinto, quando stiamo l'obiettivo, la quattro è la che va a espurre. Non così. Non così. Listo. Controllo. In questa posizione controlla il corpo. E tutto il mondo può essere qui, qui è più facile, Sì, io ero. Allora. Oggi è molto forte. Acienda, si deve essere fuerti. Grazie a tutti. Ficcate come si è occupato con il suo corpo e praticamente termina in cima. Adesso andiamo a provare solo la prima parte.